Ci troviamo nei locali della Biblioteca Liciniana, qui nello splendido complesso di Santa Chiara. Sono giornate intense di lavoro perché i servizi sociali territoriali dei 10 comuni d'ambito del distretto sociosanitario da 37 che vanno da Caltauturo a Trabbia si stanno incontrando con le ditte, le cooperative sociali che si sono aggiudicati i servizi che partiranno sul territorio dal primo di febbraio. Sono servizi importanti perché riferiti alle fasce più fragile della popolazione andiamo dall'affronto del tema della disabilità alle coppie che vivono separazioni conflittuali, la mediazione familiare, fino all'implemento di un nuovissimo servizio che è il Dopo di Noi che sarà un'esperienza di autonomia abitativa riservata a quattro cittadini del distretto con disabilità mentali e poi tutta una serie di servizi a forte mandato educativo che andranno a incidere su quelle famiglie che sono a grave rischio di esclusione sociale. Riparte il distretto, riparte, abbiamo già detto, con una grandissima preoccupazione educativa perché è vero che c'è una povertà su tutto il territorio che è dovuto a motivi economici di sofferenza dell'economia in genere, di attività imprenditoriali che chiudono piuttosto che aprire però è pure vero che il distretto ha vissuto anni di abbandono dal punto di vista dell'offerta educativa. È stato un lavoro nel mese di dicembre estremamente pesante e corposo che ha permesso l'affidamento e l'avvio di diversi progetti tramite VAUCE e dare continuità ad altri progetti che nell'arco del 22 si erano attivati a sostegno delle famiglie in difficoltà. Siamo riusciti a impegnare una cospicua somma che supera credo anche il milione di euro. Il problema non è soltanto importante dal punto di vista economico perché noi pensiamo che con queste somme significa servizi, servizi per i cittadini in difficoltà ma al contempo significa anche avviare dei percorsi di supporto e di inserimento lavorativo paradossalmente non solo in favore dell'utenza ma stiamo dando anche una risposta al mercato del lavoro dei legati appunto alle prestazioni di cura e di assistenza quindi servizi sociali, servizi psicologi, educatori e tanti altri professionisti per cui in un periodo in cui c'è una difficoltà economica e lavorativa nel nostro territorio anche questo, anche i servizi sociali danno quest'altra risposta in diretta. Buongiorno, Fondazione Don Calabria, gestori di uno dei progetti del distretto 37 di servizio di educativa territoriale e domiciliare. Siamo estremamente contenti e grati perché dopo tanti anni riparte questo tipo di progettualità su tutto il distretto, siamo certi che è un'opportunità importante per tutto il territorio e soprattutto per un'attività di prevenzione per poter sostenere i ragazzi e le famiglie che ne hanno per davvero bisogno. Caterina Costa della Cooperativa Sociale Nuova Saira che è presente sul territorio siciliano da tanti anni con tanti servizi sia sociali che a forte integrazione sociosanitaria. In particolare in questo frangente stiamo collaborando con la Fondazione Don Calabria per l'avvio di due servizi che sono di fondamentale importanza per i cittadini più fragili e per ampliare l'inclusione sociale del territorio e sono il servizio di spazio neutro che gestiremo con professionisti del settore e il servizio di potenziamento del segretariato sociale e del servizio sociale professionale dei comuni. Sono due servizi strategici perché sono messi a servizio della cittadinanza più fragile ma perché anche si usufruiranno di una rete importante sul territorio e di enti che già da anni collaborano per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Il progetto è volto a implementare tutta una serie di misure di natura educativa volte proprio all'inclusione di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico però gli interventi sono educativi proprio perché attraverso azioni educative dal basso si intende far rientrare dentro al tessuto sociale chi in qualche modo si trova in stato di marginalità. Rappresento la cooperativa Iside. Questo progetto, come diceva la collega, ha uno sfondo di povertà che può essere sociale, economica ed educativa. In particolare viene prevista un'azione volta socioeducativa secondo un programma nazionale di intervento che è il programma Pippi che prevede in linea generale di non istituzionalizzare i minori ma aiutarli nel loro contesto favorendo processi di integrazione e di inclusione ma soprattutto cercando di far emergere le loro risorse e le potenzialità lavorando ad ampio raggio sia sul minore che sulla famiglia attraverso una rete di comunità atta ad implementare quanto definito dal progetto. Collegandomi a quello che hanno detto le colleghe questo progetto oltre che avere uno sfondo educativo mira anche a sostenere i beneficiari del progetto rispetto a quelli che sono i processi di formazione sia diciamo in termini di proprio formazione quindi di sviluppo delle capacità attenzionando in particolar modo le risorse dei beneficiari ma soprattutto anche rispetto a quello che è l'orientamento in termini proprio professionali quindi cercare ovviamente di sviluppare tutta una serie di capacità e anche di skills importanti al fine proprio di favorire una maggiore integrazione quindi processi anche di inclusione rispetto al tessuto sociale e quindi garantire lo sviluppo delle pari opportunità. Oggi io ringrazio l'amministrazione di questo gentile invito per la presentazione di questo progetto e della presentazione delle diverse azioni che sono mediazione familiare, educativa territoriale l'attivazione di laboratori tematici nonché di azioni all'interno anche delle scuole dove si è appena deciso di farlo all'interno delle scuole medie un target importante un target che va preso per mano e accompagnato che potrebbe essere nell'uso delle nuove tecnologie che potrebbe essere contro il cyberbullismo contro il revenge porno contro il bullismo e quindi tematiche che andremo ad affrontare con i ragazzi e anche con le loro famiglie nella consulenza che faremo anche ai genitori che necessitano dei nostri interventi è un progetto che va costruito è un progetto che va calato in ogni realtà Il comitato dei sindaci quindi gli enti locali la loro parte l'hanno fatta stanno investendo un milione e mezzo di euro nei servizi di cui ho già detto e tanti altri di cui non sto a dire è chiaro che la nostra azione politica amministrativa non si ferma perché adesso è il punto di incidere fortemente presso l'assessorato alla sanità perché il nostro territorio è assolutamente sprovvisto di quei servizi sanitari che sono essenziali per l'implemento di servizi sociosanitari chiederemo fortemente la riapertura potremmo dire del consultorio familiare perché ad oggi ci risulta che il consultorio familiare è provvisto solo per poche ore di un assistente sociale e di un ginecologo ma manca assolutamente per esempio la figura della psicologa così come chiederemo l'implemento del servizio di neuropsichiatria sia infantile che per gli adulti